Avrei dovuto preparare un discorso, ma non l'ho fatto, scusateci, siamo abbastanza emozionati. Intanto vi presento, ci presentiamo, per chi non ci conosce ancora, io sono Marinella e noi i maritali no. Per chi non lo sa, siamo nella piazza di Peggino. Oggi ci saranno varie esibizioni qua in piazza. Iniziamo con la nostra. Non sono abituata a parlare col microfono. Continua. Per andare a me perché so parlare meglio. Vabbè, come ha detto mia moglie, io sono io. Siamo dei ballerini, abbiamo fatto un corso e ora facciamo esibili i nostri ballerini. Prima di iniziare, volevo salutare il nostro maestro Gino, che è quello lì, che ci ha onorato sia a noi i maestri male e Marco, e Paolo e Orietta, che ci hanno onorato di essere qui in questa piazza. Lasciamo stare le chiacchiere, iniziamo a mettere una margietta e chiamiamo le nostre coppie. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.